Il passaggio successivo è quello di unire il cioccolato con le mandorle tirate in precedenza con il composto che abbiamo ottenuto grazie ai tuorli, il burro e lo zucchero, una manciata alla volta. Il risultato sarà questo. Successivamente uniamo un po' alla volta il composto di anagrume montato al nire. Scoliamo dall'alto verso il basso. Arrivati a questo punto imburriamo lo stampo con dello spray. E infariniamo con del cacao. Imburrata la teglia e il cacao è ottenuto il composto. Andiamo a mettere il composto all'interno della teglia. Una volta messo l'impasto e il composto all'interno della teglia, diamo un livello uguale a tutto il composto. Cambiamo il forno a 140 gradi e inforniamo la torta alla presa per circa 30-40 minuti. Passati 45-50 minuti, sforniamo la torta e la capogluggiamo, aspettando prima che si ratte. La cosmaggiamo con lo zucchero al pelo. E la depuriamo. Le mangiure regalamentate. E il cioccolato a scaldi. Ed ecco qua la capia si è finita.